Il nostro centro benessere Poemente Su alcune delle nostre navi mettiamo a vostra disposizione un oasi del tutto speciale Si chiama Serenity Uno spazio riservato agli adulti Luogo ideale per rilassarsi all'aria aperta Troverete palestre super equipaggiate con istruttori privati E lezioni di spinning, aerobica, yoga, pilates e così via Abbiamo inoltre un anello per la corsa all'aperto Per fare jogging accarezzati dalla fresca brezza dell'oceano Il nostro centro benessere Il nostro centro benessere